Quinto video dei venti per quanto riguarda la gestione dello stress. Sì, abbiamo già parlato di quanto è importante stare immerso nella natura, di quanto è importante utilizzare un po' di sport, di quanto è importante l'alimentazione, la respirazione profonda. Ora entriamo più nella natura in sensi stretti e di come possiamo utilizzare la natura, quindi la fitoterapia. Tra i vari rimedi fitoterapici, gli oli essenziali per uso in aromaterapia diventano veramente interessanti. Di questi, senza entrare adesso in oli essenziali più sconosciuti o meno conosciuti, pensiamo all'olio essenziale di lavanda vera. L'olio essenziale di lavanda vera per infusione da mettere la sera riduce molto l'ansia e lo stress, ma anche durante il giorno, riduce proprio lo stress. A dirlo, al di là dell'esperienza, sono proprio una serie di studi scientifici. Uno studio molto interessante ha diviso in due gruppi dei bambini che si dovevano sottoporre a un trattamento dal dentista. Quindi nella sala d'attesa, immaginate due gruppi di bambini, in età scolare, messi in due stanze differenti, entrambi esposti all'attesa del dentista con dei rumori in sottofondo di un trapano di quelli del dentista con le urla dei bambini che avevano dolore effettivamente e si è visto che la classe, i bambini messi nella stanza senza inalazione di olio essenziale, avevano livelli di cortisolo molto più alti dei bambini invece messi nell'altra stanza dove avevano inserito in infusione l'olio essenziale di lavanda vera. Quindi è qualcosa di misurabile lo stress, come attraverso ad esempio la saliva, attraverso questo cortisolo. E se riesci a contenere i livelli di cortisolo anche davanti a un evento che di per sé è traumatico, figuratevi quel cortisolo alto che poi ti porta a quella serotonina bassa, con ansia, attacchi di fame nervosa, insonnia, durante la giornata a livello cronico. Utilizzare l'olio essenziale di lavanda veramente può essere una strategia vincente. Esistono tante tipologie di lavanda, ricordatevi lavanda vera, in infusione la sera a casa. Poi se sei particolarmente stressato, hai la boccettina con te, puoi metterla sul polso, frizionarla un pochino e annusarla. Metti un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale. Io intanto mi godo questo panorama. Ciao a tutti!